Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. Forte terremoto, nell'ultima ora la terra torna a tremare, ritorna la paura e la preoccupazione. Prima di saperne di più, prima di scoprire dove è avvenuta l'ultima scossa di terremoto in ordine cronologico, vi ricordo che qualora questo video dovesse superare i 700 like, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Amici di YouTube, il 2023 è stato un anno caratterizzato da tantissimi terremoti, soprattutto nel mese di settembre-ottobre 2023. Stiamo assistendo a tantissimi eventi sismici, l'attenzione dell'Italia è concentrata su ciò che sta accadendo nei campi flegrei, il bradisismo e le continue scosse, oltre 10.000 soltanto nel mese di settembre, stanno allarmando l'intera popolazione. Ma veniamo all'attualità, cari amici di YouTube, in questo video parliamo di un sisma di magnitudo 5,7 che ha colpito il Giappone. La notizia è un'ultima ora, il sisma è avvenuto alle ore 19.42 locali, il 16 ottobre 2023. Amici di YouTube, il primo anno di Marco Liguori vi terrà aggiornati su nuovi eventuali eventi sismici, con la speranza di narrarne sempre meno, amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti.